Musica Morti tre militari in un incidente in Afghanistan, nella località di Shindad. Tra di loro anche un ferito ricoverato all'ospedale militare da campo. I fatti indicano che il loro veicolo, un lince, è rimasto coinvolto in un incidente. Il mezzo, appartenente alla task force center con base a Shindad, era impegnato in un'attività tesa a recuperare una unità bloccata dalle condizioni meteo particolarmente avverse, quando nell'attraversare un corso d'acqua si è ribaltato, intrappolando al suo interno tre dei militari dell'equipaggio che sono successivamente deceduti. Con questa morte salgono a 49 militari italiani deceduti dall'inizio della missione ISAF in Afghanistan nel 2004. Di questi, la maggioranza è rimasta vittima di attentati e scontri a fuoco, altri invece sono morti in incidenti e alcuni per malore ed uno si è suicidato. La riforma del lavoro si farà anche senza l'accordo con le parti sociali, lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Monti nel suo intervento all'incontro con la comunità finanziaria di Piazza Affari a Milano. Il tema è troppo importante, ha aggiunto, il governo non può consentire poteri di blocco troppo paralizzanti. Monti ha assicurato che non ci sarà bisogno di una nuova manovra finanziaria perché sono già incorporati margini di prudenza. Per il Premier l'Italia ha bisogno di crescita, ma non può crescere da sola, ha bisogno che l'Europa riconosca il suo bisogno di crescita. E una borsa con un numero elevato di società quotate, ha osservato, può dare un contributo fondamentale alla crescita economica del Paese.